Il segreto. Puntata mercoledì 1 novembre 2017. Carmelo perde tutto. Anticipazioni. Adela è venuta a sapere da Cristobal il terribile segreto che Carmelo voleva tenerle nascosto. Quindi, disperata, lo caccia via dicendogli che non lo vuole vedere mai più. Ma non finisce qui. Il perfido Garrigues forte della nuova posizione su Carmelo lo ricatta nuovamente, ordinandogli di seguire i suoi ordini, pena l'eliminazione del figlio di Adela. Prima parte. Nella vita si tiene un incontro. Riprendiamo le anticipazioni partendo dalla situazione tra la matrona e la domestica. Fae regala un fermaglio a Francisca per ringraziarla dell'aiuto che le ha dato per nascondere il corpo di Caridad, evitando così che si venisse a sapere la verità sulla fine della donna. In realtà, la matrona tiene sotto scacco la domestica, minacciando di rivelare come sono andati i fatti e di farla dunque finire in prigione. Quindi Francisca invita a cena Alfonso ed Emilia, che dopo lunga esitazione finiscono per accettare. La serata, però, si rivela un vero e proprio disastro, ed Emilia l'ennesima conferma che, nonostante il legame che la Montenegro con suo padre Reimundo, lei e la donna non potranno mai essere amiche. Seconda parte. Adela perde l'amore. La furia di Cristobal si abbatta sui due nuovi amanti. Infatti, il Garrigues, decisamente furioso per aver scoperto che Adela sta per fuggire da Puente e Ibieco insieme a Carmelo, decide di passare al contrattacco. Egli ha infatti un conto in sospeso con l'ex braccio destro di Severo, che ricatta da tempo, anche per il fatto che egli ha fatto il doppio gioco con lui appoggiando i dipendenti ribelli che gli aveva provveduto a licenziare, garantendo loro, con il sostegno di Reimundo, un lavoro in un'altra città. Così, ciò che Carmelo ha sempre temuto che accadesse sta per verificarsi. Cristobal, infatti, decide di rivelare ad Adela la verità sulla dipartita di suo marito Leonidas. È stato Carmelo ad eliminarlo. Adela è sorpresa, sconvolta e molto turbata. Una notizia simile le fa cadere il mondo addosso e, quando Carmelo va da lei, lo caccia via gli intimi a disparire dalla sua vita. Le ha mentito dopo aver commesso un atto orrendo, e lei non vuole vederlo mai più. Ultima parte. Il nuovo ricatto. Dopo il terribile confronto con Adela, Carmelo va a chiedere spiegazioni a Cristobal, accusandolo di avergli rovinato la vita. In effetti, oltre ad aver rivelato il suo scottante segreto ad Adela, è lui il responsabile della tragedia capitata a Leonidas. Era stato infatti Cristobal ad indicare quest'ultimo come il responsabile della fine di mensia, approfittando del dolore dell'Ulil per liberarsi di colui che era un oppositore del regime. Cristobal, però, si fa beffe della rabbia di Carmelo, ed anzi, lo obbliga a restare al suo servizio. Se non eseguirà i suoi ordini, egli farà fuori un piano davanti a sua madre. Carmelo sembra non aver scelta. Con ogni probabilità egli sarà dunque costretto a sottostare al volere del perfido funzionario. Terminano qui le anticipazioni della puntata in onda in questo giorno di festa.